Grazie mille, grazie signora, grazie Sì, stiamo in su, dobbiamo andare via da quella zona qua perché è la zona del cavolo andiamo in su Pietro, andiamo in su adesso, guardi lui cazzo, vai in su adesso, non andare ancora là dove c'è il laghetto, vai in su, bravo andiamo a sentire i tempi lati Sì, sì e poi dove eravamo prima eh Grazie, grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.